E' ormai noto che prevenire è meglio che curare, proprio per questo il team di medici dell'ASL di Avellino che ha lanciato il progetto di screening del colon retto per la prevenzione dell'omonimo cancro sta intensificando il rapporto con l'utenza. Primo campo di azione dell'operato del dottor Luigi Pasquale, direttore dell'unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia dell'ASL di Avellino e del dottor Michele Gerormini, dirigente amministrativo dell'ospedale di Ariano Erpino e Monte Calvo dove è addirittura d'arrivo la prima fase di sperimentazione del progetto. E' da qui che entrambi fanno una prima analisi dei dati raccolti e lanciano un ultimo appello alla popolazione che ha ricevuto la comunicazione a casa di poter effettuare gratis, quindi a carico dell'ente sanitario regionale un primo esame tramite kit fornito dalla farmacia per verificare la presenza di eventuali polipi. Un test che nel caso in cui risultasse positivo il soggetto potrà sottoporsi gratuitamente a una colonoscopia in sedazione presso l'ospedale di Ariano. Fattiva la collaborazione del dottor Mario Flovilla, farmacista di Monte Calvo, che distribuisce il kit fornito dall'ASL e della dottoressa Maria Luisa Castiello che segue da vicino i pazienti coinvolgendole nel controllo preventivo. Il dottor Luigi Pasquale spiega ai nostri microfoni l'importanza del progetto. Il perché noi qui? Perché abbiamo assolutamente la necessità di sensibilizzare la popolazione. Dopo magari il dottore Gelo Urmini vi darà il dato crudo. Ma è indispensabile che io riproponga pubblicamente il perché dello screening. Il cancro colorettale è la seconda causa di morte nell'uomo e grossomodo si posiziona la stessa posizione anche nella donna. Per cui davvero abbiamo la necessità di prendere le neoplasie nella fase iniziale. La fase iniziale per noi è quella del polipo. Quindi attraverso i test per lo screening del sangue occulto, quindi questo kit che si può recuperare in farmacia a seguito della nostra lettera d'invito, ci dice se c'è positività o meno per il sangue occulto e quindi l'invito a recarsi presso il nostro ospedale Sant'Ottone Francipani dove continuare la serie di indagini di secondo livello. Ci può dare una chiave di lettura di un mese e mezzo di lavoro sulla sperimentazione alla malattia? Allora, i dati sono questi. Noi abbiamo come nucleo operativo, abbiamo inviato in questo comune satellite 1075 inviti. Di questi la popolazione di Monte Calvo, sollecitata, ha ritirato 100 kit. Di questi 100 kit sono pervenuti al laboratorio di analisi dove viene fatta l'analisi ben 87 prove e purtroppo comunque su queste 87 prove ben 7 sono risultati positivi. Di questi 7, 5 riguardano il sesso femminile e 2 il sesso maschile. Di questi 7 positivi, 2 abbiamo provveduto a inviare loro delle lettere di comunicazione a loro e al medico di medicina generale che le tiene in cura per invitarli a pigliare appuntamento con la nostra struttura dell'ospedale per fare la visita anestesiologica ed eventualmente poi la colonoscopia. Una persona già si è presentata, ha fatto la colonoscopia e quanto prima avrà un piccolo intervento per l'asportazione di questo piccolo... Quindi stiamo nella piena fase di attuazione. Purtroppo diciamo che ci aspettavamo una risposta un poco più forte. Forse sarà il clima, i lavori che fanno nei campi in questo periodo, in questo comune dove l'attività rurale è molto forte, ma speriamo anche con la collaborazione della vostra emittente di riuscire ad incrementare la percentuale per prevenire questo che è un eventuale danno più serio se non preso nel momento giusto. Qual è il compito del farmacista in questo momento di controllo della malattia? In questo momento, come in altre occasioni, la farmacia funziona ad anello di congiunzione tra il medico di medicina di base e le strutture dell'ASLE preposte a controlli, a screening in questo caso su queste patologie che hanno anche un risvolto sociale abbastanza importante. Il cittadino riceverà, come ha ricevuto già una lettera dall'ASLE in cui si invita a regarsi in farmacia dove viene registrato e gli viene consegnato un kit che poi il cittadino deve riportare in farmacia e noi poi tramite i corrieri del presidio ospedaliero di Ariano li facciamo arrivare al laboratorio di analisi dove vengono fatte le indagini accurate da gente preposta al progetto. Grazie a tutti!